la telecamera dalla quale sto calendo di questo è da sopra la testa di Piero c'è un prato che è stata molto di Piero e adesso c'è la faccia qui, è vero Piero? è vero? si allora, siccome tutti conoscete Piero, è vero Piero è vero che sei Piero è vero che sono un super pilota, è una caccola posso essere una caccola allora, questa è l'immagine che avete di Piero oggi Piero è caduto dieci volte non è tanto per cadere mai bravissimo ciao a tutti 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 ciao a tutti